Parte la sfida di Renzi, ma scende in campo anche Laura Puppato e Bersani, siano primarie per l'Italia. Monti critica lo Statuto dei Lavoratori, la CGL, il Premier non sa cosa fare per la crisi. Prosegue l'ondata di violenza anti-americana, sotto assedio le ambasciate in Egitto e nello Yemen. Buonasera e ben trovati a PD oggi. Come avete visto nei nostri titoli, la sfida delle primarie del centrosinistra entra nel vivo. Oggi è stato il giorno dell'ascesa in campo di Matteo Renzi, ma c'è anche un'altra novità. C'è una terza candidatura alle primarie ed è quella di una donna, si chiama Laura Puppato ed è la capogruppo del PD nel Consiglio regionale del Veneto. Allora, vediamo il servizio. Entra nel vivo la campagna per le primarie del centrosinistra. Insieme alla candidatura di Bersani, Renzi, Vendola e a quella confermata oggi in un'intervista al Corriere della Sera di Bruno Tabacci, ecco spuntare il nome di una donna, Laura Puppato, 55enne veneta, sindaco di Montebelluna dal 2002 per due mandati, consigliere regionale dal 2010. In un'intervista a Repubblica ha detto Non mi candido contro Renzi o Bersani, ma per un'idea di futuro possibile, per i nostri figli. Oggi, proprio dal Veneto, da Verona, è partito il viaggio di Matteo Renzi. Se si vince, non si tratta di cambiare partito, si tratta di cambiare l'Italia. E io l'avverto come possibile, come reale, come immediata questa opportunità. Per farlo, però, c'è bisogno di tre cose. Europa, futuro, merito. Ma c'è bisogno di partire da un impegno formale, ufficiale. Con umiltà e con determinazione noi oggi siamo qui a Verona per mettere in gioco personalmente e come squadra un'esperienza che, a nome di tanti amici, provi a restituire il domani alla politica italiana. Noi chiamiamo questa scommessa con il suo nome. Le diamo del tu. È una scommessa di coraggio, di dignità, di bellezza. È la scommessa della politica. Accettiamo di non limitarci a lamentarsi, accettiamo di mettere in gioco tutti e ciascuno. Con questo spirito, da Verona, annuncio ufficialmente la mia, che è la nostra candidatura alla guida dell'Italia per i prossimi cinque anni e pongo il mio onore nel meritare la vostra fiducia, la vostra amicizia e il vostro sostegno. Lo facciamo dicendo adesso le parole con le quali vogliamo governare l'Italia. Futuro Europa merito. Le primarie sono un'occasione per l'Italia. Si facciano nel nome del paese e non per il PD. Così ha detto Pierluigi Bersani ieri sera a otto e mezzo. Vediamo. Io penso che se fatte per bene queste primarie, possono allargare il nostro campo, mettere in movimento le forze vere e io sono partito da lì. Dopodiché naturalmente, siccome ho delle idee in testa per l'Italia, io voglio vincerle. Voglio vincere per le idee che ho in testa. Non vorrei, l'unico, io pongo un solo, e lo dico da segretario perché a pro tempo sto facendo questo, dico una sola cosa, sono primarie per l'Italia, non sono primarie del PD. Se mi si chiede il rinnovamento, allora la mia segreteria è fatta tutti i quarantenni, sono metà uomini e metà donne. Se uno gira l'Italia e va a vedere come sono i circoli, come sono le federazioni, a cominciare da quella di Firenze, che c'è uno di trent'anni a dirigerla. Io posso dire che in questi anni, senza tante chiacchiere, questo partito si è rinnovato non solo più degli altri partiti, ma più delle banche, più dei giornali, più delle università, perché è l'Italia che non sa rinnovare. Altro tema che tiene banco sulla scena politica è quello delle alleanze per il PD. Dopo che se le dv si sono fatti promotori del referendum sull'articolo 18, resta in piedi l'alleanza con Vendola? A questa domanda ha risposto ieri per Luigi Bersani a 8 e mezzo. Il problema univoca è una parola un po' grossa in questo momento, anche perché ieri Di Pietro e Vendola hanno presentato i quesiti per un referendum contro la riforma dell'articolo 18, che voi del PD avete votato in Parlamento. Questo non è uno strappo su un tema molto sensibile che la porta a mettere in discussione l'alleanza con Vendola. Adesso arriva anche l'articolo 18. No, io volevo solo sapere se è sempre del parere che con Vendola il PD si all'era. Noi abbiamo messo in questa carta di intendi, che ho vinto tutti quanti a leggere, una parte che si chiama responsabilità, dove per esempio fra le cose che noi chiediamo di sottoscrivere c'è una cessione di sovranità, cioè le parti di questa alleanza, i diversi partiti e le diverse forze politiche riconoscono che in caso di dissenso la cosa viene risolta nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari che votano a maggioranza. Se lei è centro-sinistra, doveste andare al governo nel 2013, voi confermerete questa riforma del mercato del lavoro? La domanda che il ministro Fornero spesso mi fa direttamente, e io dico questo, le riforme sono come dei figli, però poi i figli crescono, ne ho fatte anch'io di riforme. Bisogna essere affezionati giusto, nel senso che poi le riforme si migliorano, ok? Quindi si può cambiare. Allora, quella lì, quella delle pensioni... Ecco, quella la confermerete o la cambierete. Quella delle pensioni, almeno un aggiustato sulla questione degli esodati, bisogna darlo, no? E continuiamo a parlare di lavoro, perché oggi il Premier Monti, parlando a un convegno nella terza università romana, ha criticato lo statuto dei lavoratori, tirandosi dietro l'aspra risposta di Susanna Camusso. Vediamo il servizio di Alessandra Dell'Olmo. Torna a parlare il Presidente del Consiglio, Mario Monti, e ancora una volta le sue affermazioni non sono mai lasciate al caso. Lo fa in occasione del 26esimo convegno della Società Italiana di Scienza Politica all'Università Roma 3, in videoconferenza, davanti a un pubblico attento e soprattutto molto preparato. Il tema ancora una volta sono l'economia e il lavoro, in particolare i danni e le distorsioni offerte dal mercato del lavoro. Tema come sempre delicato, ancora di più dopo la recente e fortemente osteggiata riforma Fornero. Il Premier parla di pragmaticità, di politiche economiche del passato, dannose perché troppo attente a fare bene anche dal punto di vista etico, civile e sociale. Ma la considerazione più forte Monti la riserva lo statuto dei lavoratori, colpevole di aver determinato una minore creazione di posti di lavoro. Certe disposizioni intese, giustamente aggiungerei, a tutelare le parti deboli nei rapporti economici, hanno finito impattando sul gioco del mercato per danneggiare le stesse parti deboli che intendevano favorire. Certe disposizioni dello statuto dei lavoratori, di nuovo ispirate all'intento molto nobile di proteggere la parte più debole, ritenuta essere quella del lavoratore, hanno potuto contribuire a determinare insufficiente creazione di posti di lavoro. Un affondo che provoca subito la suscettibilità della CGL, molto sensibile dopo gli scontri degli ultimi mesi, in particolare dopo il monito di alcuni giorni fa, sempre del Presidente del Consiglio, rivolto alle parti sociali a fare di più. Parole che non lasciano margini al segretario Camusso per la diplomazia. Ecco del peggior liberismo, ha riplicato la leader della CGL, quello che ha autorizzato che la disuguaglianza abbia fatto crescere il mondo. Sono quattro anni che il mondo non sa uscire da una crisi determinata esattamente da quella logica lì. In realtà il governo non ha una sola idea per la crescita, ripete, e siccome non c'è nulla si reinventa una logica contro i lavoratori. Il segretario della CGL poi ricorda a Monti come gli ultimi cinque mesi sono stati passati tra Palazzo Chigi e Ministeri a discutere e tutto il mondo, compreso quello delle imprese, sottolinea Camusso, ha dimostrato che quello non era il problema. Niente di nuovo. Interviene sul dibattito a distanza anche il Ministro del Lavoro Elsa Fornero, convinta che la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sia una buona premessa per creare più posti di lavoro, più occupazione, la quale poi si affretta anche a precisare che non sono previsti per ora nuove ritocche allo Statuto e che la modifica dell'articolo 18 non è punitiva ed è stata fatta tenendo conto anche di tutto il resto, come la flessibilità in entrata. Chi non concorda con Monti è poi l'ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano. È stata una legge che ha salvaguardato il lavoro e credo che le aziende, se vogliamo parlare del famoso articolo 18, abbiano archiviato questo problema che forse è molto sentito dai mercati finanziari europei, ma poco dall'economia reale. Poi Monti, dopo aver chiarito che con le misure adottate dall'esecutivo è stato evitato il commissariamento del paese grazie anche al grande senso di responsabilità dimostrato dalle forze politiche che lo sostengono e dopo essersi augurato che l'agenda Monti si trasformi in una serie di acta Monti, coglie anche l'occasione per creare non aver mai aspirato al ruolo di tecnico di aria, che considera come l'unione dei due mali e alla fine Monti spera di non aver perso prestigio in questo breve periodo al governo. E ci sono cattive notizie sul fronte della spesa, perché secondo l'Istat il costo dei prodotti più acquistati, dal cibo al carburante, ha aumentato di oltre il 4%, mentre l'inflazione è schizzata al 3,2%. Allora vediamo il servizio. L'inflazione alle stelle è spesa sempre più cara per le famiglie italiane. È quanto rivela l'Istat che ha presentato un rapporto impietoso per quanto riguarda il mese d'agosto. L'inflazione registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,2% nei confronti di agosto 2011. Il dato definitivo conferma la stima provvisoria. L'inflazione acquisita per il 2012 sale al 3%. Vola il prezzo del carrello della spesa che nell'ultimo mese ha aumentato del 4,2% su base annua. Grande preoccupazione è stata espressa dal Codacon, secondo cui si tratta di un fatto molto grave, dato che l'aumento dei prezzi acquistati con maggiore frequenza colpisce in primo luogo chi oggi già fatica ad arrivare alla fine del mese. Solo per fare la spesa di tutti i giorni, una famiglia italiana spenderà ben 567 euro in più rispetto all'anno scorso. Apriamo adesso la nostra pagina parlamentare, perché oggi il PD ha chiesto alla Camera che venga calendarizzata la proposta di legge per correggere la riforma delle pensioni e risolvere così il problema degli esodati. Ecco che cosa hanno detto il capogruppo dei democratici a Montecitorio, Dario Franceschini, e quello in commissione lavoro, Cesare Damiano. Allora, quello che noi vorremmo dire è che naturalmente ci sono le regole della riforma, l'impianto della riforma, non è quello che adesso viene messo in discussione. C'è un problema che va oltre gli aspetti politici, che è di rispetto del patto dello Stato con un proprio cittadino, perché qui siamo di fronte a situazioni in cui un cittadino ha cessato il proprio rapporto di lavoro con gli accordi, insomma questo l'avete sentito, sulla base di una normativa che prevedeva la sua andata in pensione dopo un certo numero di mesi, viene cambiata, spostata quella data e questo cittadino si trova per un tempo, un arco di tempo drammaticamente lungo, più o meno lungo, ma drammaticamente lungo, senza stipendio, senza pensione e quasi sempre senza possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Non è vero quello che afferma il Governo che per il 2012, 2013 e 2014 nessun lavoratore avrà problemi di andare in pensione con le vecchie regole nel caso in cui maturasse quel diritto in quegli anni. Abbiamo casi che purtroppo dimostrano il contrario, per questo insistiamo sul fatto di correggere ancora la riforma pensionistica. La nostra proposta, la 5103, va in quella direzione ed è stata approvata all'unanimità da tutti i partiti in Commissione del Lavoro della Camera. Ci spostiamo al Senato dove invece il Vice Presidente Valdino Chiti ha presentato con la senatrice Silvana Amati un disegno di legge sull'istituzione di punti franchi nei porti di Livorno e di Ancona. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Quello che presentiamo è un provvedimento di legge importante, è una proposta di legge importante, prevede la costituzione di zone franche nei porti di Ancona e di Livorno. Quindi gli aspetti positivi sono due. La collaborazione tra due regioni, Toscana e Marche, che sono ricche di attività manifatturiera. L'Italia centrale che cerca di dare un contributo per uscire dalla crisi e costruire uno sviluppo. Infine il puntare molto, come diceva l'ex Presidente della Repubblica Ciampi, sulle cosiddette autostrade del mare, cioè sull'attività portuale che è importante in Europa che noi dobbiamo rivendicare, valorizzare e potenziare anche nel nostro Paese. Purtroppo molto spesso la globalizzazione oggi viene vista come un fenomeno preoccupante. E quindi abbiamo pensato che rilanciare le teorie della franchigia, che peraltro nella mia regione, nella città di Senigallia in particolare, avevano e hanno prodotto grandi risultati nel lontano passato con la Fiera Franca di Senigallia, poteva essere un modo importante per rimettere insieme l'economia delle regioni Toscana e Marche e anche per rilanciare in particolare il porto di Rivorno con le sue aree contigue, il porto d'Ancona, l'interporto di Iesi e l'area artigianale di Senigallia. Chiaramente le due regioni che sono anche oggi qui presenti valorizzano questa sinergia che non cammina solo sulla nostra proposta di legge, che riteniamo molto innovativa, ma anche su percorsi che anche le regioni stesse stanno mettendo in fila, proprio perché l'Italia centrale stia sempre più forte e valorizzata anche nella costruzione dei nuovi subcorridoi dalla Spagna fino alla macro-rigione adriatico-ionica. Siamo agli esteri con l'ondata anti-americana che prosegue e che dopo l'uccisione dell'ambasciatore Chris Stevens in Libia scatena ora la sua violenza contro i consolati dell'Egitto e dello Yemen. Ma ci sono state ore di panico anche a Berlino, vediamo il resoconto. La protesta contro l'America si è spostata in Egitto. Dopo l'attacco a Benghazi, costato la vita all'ambasciatore americano in Libia, anche al Cairo sono scesi in piazza manifestanti anti-americani. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla sede diplomatica USA. fumogeni, poliziotti in tenuta anti-sommossa e blindati dell'esercito schierato per proteggere l'ambasciata dalla folla che protesta contro il film Innocence of Muslims, prodotto negli Stati Uniti. Il film, dice questo manifestante, deve essere ritirato e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione devono essere puniti. Il trailer diffuso in rete ha scatenato le proteste del mondo islamico. L'amministrazione americana deve scusarsi, dice quest'altro manifestante, perché il film insulta tutti i musulmani. Poi questo film deve essere vietato perché mette in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti. Loro lo sanno, soprattutto dopo quanto è successo a Benghazi. In Olanda, ora dove i liberali hanno sconfitto l'ultra-dess, dove si fa notare l'ascesa del partito laburista, probabile alleato dei vincitori. Un successo, dicono i liberali, tutto filo europeo. Vediamo. Gli olandesi hanno detto sì all'Europa e no agli estremisti, senza ombra di dubbio. Alle legislative, in cui si rinnovavano 150 seggi della Camera, i liberali del premier uscente Mark Rutte e i laburisti di Dieterich Samson sono stati due partiti più votati. I risultati in crescita rispetto alle scorse elezioni dei due movimenti filo-europeisti hanno dato un segnale chiaro all'ultra-destra di Gert Wilders, trollata in queste ultime elezioni, dove è arrivata con la responsabilità di aver fatto cadere l'ultimo governo. Poco brillanti anche i risultati dell'altro partito euroscettico, i socialisti di Emir Romer. Gli slogan contro l'austerità imposta dall'Europa e dalla Germania in particolare non hanno attecchito. Ora Rutte si prepara ad affrontare il prossimo mandato. Un governo stabile dovrà essere formato al più presto nei Paesi Bassi, ha detto io lavorerò con voi per far uscire l'Olanda più forte dalla crisi. Torniamo adesso in casa nostra con l'ultimo servizio di oggi. Parliamo di terremoti e di ricostruzioni. Vediamo come è possibile imparare dalle buone pratiche, ma anche dalle cattive esperienze. L'efficienza dopo il terremoto in Friuli-Venezia-Giulia, le inchieste dell'Aquila. Sono i successi e gli errori del passato che potrebbero suggerire la strada giusta all'Emilia per rialzarsi dopo i terremoti del maggio scorso. Se ne è parlato alla festa del PD di Modena, un'occasione per fare un punto della ricostruzione in Emilia. Stefano Vaccari è l'assessore alla protezione civile della provincia di Modena. L'idea che si possa ricostruire in modo sostenibile quel territorio credo che debba essere un punto di riferimento del nostro lavoro. Le scuole, le case, le fabbriche e anche le comunità possono ritrovare anche una nuova idea di città. Per Diego Carpenedo, dirigente della regione Friuli-Venezia-Giulia negli anni del terremoto, è importante che l'Emilia cerchi di ricominciare dalle aziende. Tanto è vero che tra gli slogan della nostra ricostruzione la ricostruzione è uno di quelli più conosciuti e che avevamo detto prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. Questo era un po' il senso della ricostruzione. Il lato oscuro della ricostruzione lo racconta Stefania Pezzopane, assessore del Comune dell'Aquila e presidente della provincia nell'anno del sisma, il 2009. Le Newtown sono state uno sperpero di risorse. Oggi il Comune dell'Aquila ha spese di manutenzione enorme. la popolazione è completamente distribuita, distante dalle loro radici. Per oggi è tutto. Pidi Oggi torno domani sera alla stessa ora. Grazie per averci seguito.